Asili nido di Como e multa ai genitori in ritardo è scontro in Consiglio Comunale e il voto sul nuovo regolamento slitta. Ieri sera infatti la discussione è approdata sui banchi dell'Assemblea Cittadina. Al centro del dibattito la possibile applicazione di una sanzione da 50 euro dopo quattro ritardi che siano in ingresso o in uscita, anche non consecutivi, nello stesso mese. La notizia della multa aveva fatto nei giorni scorsi il Giro d'Italia. A difendere il provvedimento è stato il vice sindaco e assessore alle politiche educative di Palazzo Cernezzi, Nicoletta Roperto. Il nuovo regolamento è il frutto di un lavoro condiviso tra amministrazione, dirigenti e coordinatrici degli asili nido. Ha detto sulla questione ritardi sono state segnalate diverse situazioni di disagio, anche soltanto un bambino che resta oltre l'orario previsto crea difficoltà nella gestione. Poi il vice sindaco è intervenuto anche in merita al servizio estivo offerto dagli asili. Nessuno ha detto che non ci sarà il nido estivo, non serve più la doppia iscrizione, asilo e asile estivo. Con il nuovo regolamento infatti è stata semplificata con un'unica iscrizione. E intanto, come detto, sul regolamento si è consumato lo scontro ieri sera. Sollevare dubbi e perplessità sulle nuove misure che presto saranno introdotte in città sono stati sia gli esponenti di centro-sinistra sia di centro-destra che hanno chiesto di eliminare la multa ai genitori in ritardo. Le sanzioni però non sono l'unica novità, tra le modifiche e anche la formazione delle graduatorie i criteri sono rimasti gli stessi mentre cambia il punteggio assegnato. Favorite le famiglie residenti a come chi lavora a tempo pieno. Infine, sulle procedure più snelle per la gestione del servizio in affidamento a terzi la modifica conferma quanto indicato nei mesi scorsi dall'Aggiunta Comunale ossia l'intenzione di esternalizzare alcuni servizi scolastici. Intanto al testo sono stati presentati 23 emendamenti che richiedono ulteriori passaggi la discussione dunque è stata sospesa e rimandata alla seduta successiva.